ma la tuta absoluta che fine ha fatto buongiorno e bentornati torniamo a parlare di tuta absoluta dopo un bel po di tempo diciamo che in questo periodo le priorità sono state altre dalla russia arrivano oltre a queste ondate di freddo arrivano anche effetti collaterali molto pesanti della guerra russia appunto ucraina di cui noi non ci occupiamo non ne parliamo però ci sono delle novità dice un riguardo alla tuta absoluta mi sto trattenendo perché prima voglio essere sicuro dei risultati positivi e ulteriormente positivi rispetto a quelli ottenuti gli altri anni e vi voglio anticipare qualcosa in questo video come sapete io sono gianluca il vostro produttore di fiducia e noi produciamo naturalmente da molti anni e abbiamo diverse armi per combattere un po tutte le problematiche che affliggono le coltivazioni ortive principalmente come vedete noi ci occupiamo di pomodoro in serra la tuta assoluta ecco a livello di insetto è quello più devastante negli ultimi anni ha fatto molti danni nelle coltivazioni di pomodoro sia in serra che a piano campo e stiamo cercando di combatterlo con diversi mezzi il nostro piano di azione del 2022 ha un'arma in più diciamo che abbiamo potenziato l'effetto abbattente contro l'insetto adulto quindi la cosiddetta farfallina e abbiamo anche proprio scoperta recentissima di oggi abbiamo visto che stiamo riuscendo a combattere anche diversi stadi della larva anche all'interno della foglia che è una cosa molto importante come sapete la tuta assoluta depone le uova sulla pianta sui frutti sulle foglie e poi la larva quando neonata si va a nascondere se vogliamo all'interno della foglia o fa i buchi nei frutti insomma diventa un po difficile da andare a raggiungere con qualsiasi tipo di trattamento appunto perché la larva magari è meno resistente agli insetticidi anche diciamo convenzionali invece l'adulto l'insetto adulto ha una corazza particolarmente grassosa che gli permette di diventare invincibile e in più ha un'altra proprietà diciamo sovrumana di abituarsi rapidamente in una generazione al principio attivo che utilizziamo per trattare quindi cosa vuol dire che se utilizziamo un determinato insetticida quindi chimico sintetico e magari avrà un certo effetto al primo trattamento tutti quelli gli insetti adulti che resteranno quindi sempre di tuta assoluta ovviamente e deporranno le uova quella nuova generazione sarà immune a questo insetticida che abbiamo utilizzato e insomma si innesca una reazione a catena che da anni ci sta torturando e grazie alla tuta assoluta come ho detto nei video storici che ormai hanno qualche anno noi ci siamo affacciati a questo metodo di coltivazione con sostanze naturali e stiamo avendo sempre più risultati stiamo affinando la tecnica come dicevo in un altro video dedicato a questo discorso e vi volevo fare questo piccolo riassunto ad oggi dove siamo arrivati parlando esclusivamente della questione lotta agli insetti e soprattutto tuta assoluta diciamo che il prodotto madre quello che ci sta dando risultati maggiori è il sinapis che è quello nuovo la nuova formulazione anche questo ho parlato nei video recenti è diversa non è un semplice olio di senape molto concentrato come lo era fino al 2021 se vogliamo adesso contiene anche altre sostanze e ha una capacità maggiore abbattente di penetrare le barriere quindi le varie corazze degli insetti e andarli a sterminare in più induce questo lo ha sempre fatto induce la pianta a resistere gli attacchi di un po tutti i parassiti e immaginate che siamo riusciti a curare anche il famoso parassita il rugginoso che nella coltivazione di pomodoro e non solo è talmente insidioso che in pochi giorni massimo qualche settimana può distruggere intere coltivazioni anche qui sia in serra che a piano campo ricapitolando il sinapis nuovo utilizzato a 5 ml per litro quindi con un certo dosaggio va a colpire sia l'insetto adulto che la larva per il problema della difficoltà di andare a raggiungere queste larve che si nascondono come abbiamo già detto utilizziamo l'olio di neem quindi sinapis e quando c'è bisogno quando c'è una certa infestazione soprattutto per andare a rompere il ciclo ecco vitale riproduttivo di questo maledettissimo insetto si può aggiungere l'olio di neem che aumenta il potere larvicida del sinapis in più un'altra cosa sorprendente che ripeto scoperta recentissima abbiamo visto che anche dopo giorni dal trattamento con sinapis e olio di neem si trovano larve morte da poco come si fa a capirlo beh quando si va a esaminare una coltivazione se troviamo le larve all'interno della foglia nere quindi vuol dire che sono morte da un bel po se troviamo qualche larva o all'interno della foglia o questa è tentando di uscire o addirittura ne abbiamo trovato alcune metà dentro metà fuori sia dalle foglie che dai frutti vuol dire che sono morte da poco e ancora sono chiare quindi non è trascorso molto tempo potrebbe essere morte da un giorno o mezza giornata quello che sia quindi vuol dire che l'azione di questi due prodotti prodotti consentiti in bio quindi sono prodotti naturali è veramente forte è efficace e duratura e abbiamo buone speranze di andare a combattere quando c'è il boom ecco quando c'è l'esplosione della riproduzione quindi quando l'insetto va a svernare e sono le generazioni più aggressive perché appunto sono state rallentate dal freddo quando scoppia la primavera o comunque si innalzano abbastanza significativamente le temperature la tuta si si manifesta insieme ad altri insetti che fra parentesi come sapete noi qui abbiamo un clima un inverno anche abbastanza mite anche se quest'anno è stato molto freddo se vogliamo rispetto agli ultimi a quelli degli ultimi anni infatti come vedete sono ben coperto anche se sono all'interno della serra e qui da noi gli stavo dicendo gli insetti si fanno vedere i vari parassiti un po tutto l'anno ovviamente nei periodi più caldi sono di più e sono più rapidi però da quando utilizziamo la nuova formulazione di sinepis ad esempio non ho visto una leuroide che è un altro problema grosso soprattutto sempre per il nostro bene amato pomodoro perché sono c'è la bemisia tabaci che portatrice delle virosi quella più famosa è il tilk quindi l'arricciamento fogliare giallo del pomodoro veramente non se ne vedono quindi è efficace a 360 gradi veramente non ci sono ragnetti non ci sono nessun altro tipo né cimici e né niente ho visto che abbiamo preso l'argomento cimice sicuramente è un insetto molto resistente quindi se in caso di infestazione dobbiamo aumentare la dose raddoppiarla addirittura quindi 10 ml per litro perché appunto quando ce ne sono veramente tanti andarli a colpire ecco la cosa importante ora il funzionamento del nuovo sinepis è molto di contatto quindi quando facciamo i trattamenti cerchiamo di bagnare bene meglio possibile la nostra coltivazione così da andare a raggiungere un po tutti questi nostri nemici anche se sono nascosti oro al riparo dalle foglie e via dicendo per quanto riguarda il nuovo piano di azione che stiamo utilizzando nella nostra coltivazione di pomodoro troverete molte informazioni nel video dedicato e c'è anche qualche post dove si possa considerare delle schede tecniche proprio di come andare ad operare con questi trattamenti quindi li trovate in descrizione date un'occhiata già che ci siete fate un altro piccolo sforzo se non l'avete già fatto e iscrivetevi al canale perché è gratuito non si paga e quindi mi potete aiutare a continuare con questa divulgazione in questo senso detto tutto ciò non ho parlato per un po di tempo della tuta assoluta proprio perché volevo delle certezze delle prove quindi continuare la sperimentazione che vi ricordo che è alla base di tutto che non deve fermarsi mai e non ne ho parlato non perché così non vorrei infatti qualcuno ha chiesto anche nei commenti e poi parlando anche in privato con i colleghi o via più o meno vicini ecco e c'è chi pensa no quest'anno tuta non ce n'è quest'anno se ne vede poco quest'anno non ci sarà quest'anno e poi qualcuno invece più preoccupato ma già si vede qualcosa quindi il discorso secondo me è sempre lo stesso ora ad esempio andiamo un po a vedere cos'è successo l'estate scorsa quindi l'estate 2021 è stata molto calda e abbiamo avuto un caldo se vogliamo torrido secco che non piace assolutamente al nostro insetto preferito perché è un insetto subtropicale come sappiamo è alieno giusto un insetto alieno che non è di qua ma si è ambientato molto bene soprattutto nelle coltivazioni di pomodoro che bello ma in generale colpisce le solle nacee è logico pensare che le campagne autunnali quindi dopo l'estate non siano state particolarmente attaccate dalla tuta anche se ho testimonianze di colleghi ripeto vicini e lontani che hanno visto la tuta assoluta fare dei danni magari non eccessivi sempre qualche foglia mangiucchiata qua qualche frutto trapanato la fino in tutto insomma diciamo durante tutto l'autunno quindi anche fino in novembre e direi che questo già ci fa capire che comunque già si sta ripopolando adesso se vogliamo abbiamo visto anche che sia in fine autunno c'è stato un freddo abbastanza precoce se vogliamo e tutto l'inverno siamo stati accompagnati anche qui dal freddo gelido che arriva che entra dai balcani ma arriva dalla siberia insomma e anche qui di conseguenza è facile capire che con le temperature abbastanza sotto media visto che è un insetto che gradisce il caldo umido e delle temperature medio alte con il freddo rallenta tantissimo il ciclo vitale già che era la popolazione del dell'adulto soprattutto era poca in autunno come abbiamo detto in inverno il ciclo è molto lento ma magari in inverno si abbassa la guardia ripeto qui da noi si coltiva tutto l'inverno ma non solo da noi in gran parte del sud quindi ci dobbiamo aspettare in primavera non dico un boom esagerato come quello che c'è stato in alcuni anni come nel 2020 è stato molto pesante chi ha avuto coltivazione di pomodoro nel 2020 sa di cosa sto parlando e ci dobbiamo aspettare che ci sarà ci sarà ovviamente la nuova generazione svernante che sarà aggressiva che avrà voglia di andare a distruggere tutte le nostre coltivazioni di pomodoro soprattutto e non solo e perché si deve riprodurre molto rapidamente a quanto dicono gli gli studi su tale insetto ormai mettiamo anche questo nel nel mucchio questa famosa generazione svernante ha una vita più breve però è molto più rapida a ad accoppiarsi insomma quindi apro che procreare altri individui che andranno continueranno in maniera esponenziale fin quando ci sarà pomodoro in giro o pianta o solo il fusto continueranno a distruggere tutto bene per quanto riguarda l'argomento tutta assoluta direi che per ora ho detto tutto voglio tenervi aggiornati e lo farò soprattutto ogni volta che avrò veramente delle prove tangibili in mano ormai manca poco a breve dovrebbe entrare un inizio di primavera quindi ci sarà questo famoso aumento sostanziale delle temperature e si vedrà cosa accadrà se i nostri trattamenti come abbiamo visto finora saranno efficaci riusciremo a quanto meno a placare in maniera molto importante il fenomeno quindi ad alleviare molto i danni e andiamo a capire che se si fanno dei trattamenti efficaci che riescono non solo ad abbattere l'adulto ma anche a distruggere la quasi totalità delle larve si spezza un po la catena e possiamo respirare ecco abbiamo magari il tempo di pensare a quello che dobbiamo fare di lavorare di andare a raccogliere questi pomodori che ormai sta diventando pesantissimo ovviamente non c'è solo la tuta assoluta nella coltivazione di pomodoro e questo lo sappiamo tutti molto bene quindi dai speriamo sia una notizia positiva anzi molto positiva in questo periodo così difficile sotto moltissimi punti di vista va bene io vi ringrazio tutti come sempre e basta vi ricordo di andare a guardare in descrizione iscrivetevi e voglio ringraziare anche qui come sempre tutti coloro che si sono abbonati al canale e mi stanno supportando in maniera fisica e per me è veramente importante grazie a tutti mi raccomando continuate a fare i bravi picciotti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti